L'emergenza coronavirus dopo i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle limitazioni degli spostamenti per fronteggiare la diffusione del virus ha posto anche l'attenzione sugli animali domestici e gli spostamenti autorizzati per passeggiate e cure mediche veterinarie. L'ente nazionale di protezione animali ha stirato un vademecum di corretti comportamenti per non incorrere nelle sanzioni previste per legge. Partendo dal presupposto che gli animali non trasmettono il coronavirus ne va tutelato il bene e la salute e questo è chiaramente scritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020. Il bene salute di umani e non umani. Si può uscire con il cane purché per lo stretto tempo necessario all'espletamento delle sue esigenze fisiologiche, nell'imminenza dell'apitazione dove ci si trova e qualora si incrociasse qualche altro individuo rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro. L'animale si può portare al veterinario in caso di emergenza, si configura lo stato di necessità. Quindi è possibile, sempre avendo in tasca l'autocertificazione, si consiglia però di contattare telefonicamente prima il veterinario per verificare l'apertura dell'ambulatorio e la possibilità di essere accolti in sicurezza. Se invece la visita veterinaria non è un'emergenza ma è indifferibile, è possibile portare l'animale ma occorre chiedere al veterinario una dichiarazione con la quale si attesti l'indeferibilità della visita. Durante il ricovero il nostro animale dovrà restare presso la struttura veterinaria e noi dovremo astenerci dal fargli visite, a meno di specifiche e giustificate esigenze comprovate dal medico veterinario. Se invece si tratta di andare a riprendere il proprio animale al veterinario dopo un ricovero, è importante allegare il foglio di dimissione del veterinario. Per quanto riguarda gli animali di proprietà di un ricoverato, devono poter venire regolarmente accuditi da parenti vicini o da amici incaricati, i quali si tuteleranno con i normali dispositivi di protezione non dagli animali, che notoriamente non veicolano il virus, ma dall'ambiente in cui essi vivono. In caso di impossibilità di accudimento è assolutamente necessario avvisare il servizio veterinario pubblico o la polizia locale riguardo la presenza di animali presso l'abitazione del ricoverato. È consigliabile appendere alla porta di casa o lasciarlo in casa ben in vista insieme al libretto sanitario e eventuali prescrizioni terapeutiche specifiche, un modulo che avvisi della presenza del nostro amico animale affinché qualcuno si occupi di accudirlo.